Se esiste un autore contemporaneo che dovremmo far studiare per obbligo a scuola, questo è uno e uno solo. Sto parlando di lui, di John Shirley. E oggi abbiamo l'onere e l'onore di commentare la sua ultima raccolta, uscita nel 2021 ma che finalmente vede la luce in Italia. Sto parlando di Stelle Bollenti. Io amo John Shirley, lo adoro. Tra i contemporanei del mondo del fantastico, ma anche il semplice dire fantastico e troppo limitativo, è, se non il più grande, uno dei più grandi. Per cosa è rimasto nella storia della letteratura John Shirley? Per mille motivi, mille. E non è rimasto solo nella storia della letteratura, è rimasto nella storia dell'arte, mi viene da dire. Se oggi conosciamo un termine, ovvero sia cyberpunk, sappiate che il cyberpunk l'ha inventato lui. Se oggi potete godervi su Amazon, Fallout è per merito suo. Se avete goduto in passato della trasposizione straordinaria su pellicola di Del Corvo, è merito suo. Se avete adorato Poltergeist di Hooper, è merito suo. Se avete goduto dei migliori episodi della serie di Star Trek, sia con il capitano Kirk, sia con Picard, è sempre lui. E se vi sono piaciuti i videogiochi giusto appunto come Cyberpunk 77, Bioshock, Halo o anche Fallout, c'è sempre lui dietro, sempre John Shirley. Ecco, questo è John Shirley. Un genio, giusto appunto, della narrativa che limitativamente, per darci un'idea, definiremo fantastica, che in pratica ha spaziato in tutta la sua carriera e continua a spaziare dall'horror alla fantascienza, all'assurdo al cyberpunk, al giallo, al noir, con una disinvoltura incredibile. E perché ho fatto dei riferimenti sia cinematografici sia videoludici? Perché lui è anche uno scrittore di stragrande successo, oltre che dei titoli che vi ho già detto, di tanti altri titoli come sceneggiatore. Ecco, qui avete davanti uno sceneggiatore straordinario che è anche in grado di scrivere una narrativa straordinaria. Questa antologia ci regala 21 racconti, alcuni già datati, molti inediti. Di che si tratta? Di 21 punti di vista diversi del grande John Shirley nel mondo della narrativa dell'impossibile. Ecco, mettiamola così. In cui incrociamo giusto appunto momenti orrorifici, ma mai quell'horror banale. Un horror che richiede sempre un approccio più visionario, acido, diciamo, condito di tanto MDMA o LSD, come vedete voi. Tanta fantascienza, ma non puttanscienza, cioè fantascienza fatta come Dio comanda. Troviamo tante ambientazioni, ripeto, cyberpunk. Troviamo tante ambientazioni che ci riportano in alcuni racconti anche alle atmosfere di Blade Runner. Ecco, questo è Stelle bollenti. Un autentico capolavoro. Una raccolta di un autore che io personalmente definisco straordinario. sennò, certo, non lo coinvolgevo direttamente per scrivere la prefazione del mio ultimo romanzo, di cui parleremo a breve, Mr. Crowley, Le cronache di Cefalù. A parte questo break personalistico, questa è una raccolta straordinaria. Io di John Shirley ho sempre parlato strabenissimo, indipendentemente dalle mie collaborazioni con lui, ma questa è qualcosa che mi ha veramente emozionato dentro. La metto sui livelli di un'altra sua raccolta, non pubblicata da Independent, ma per me quello è il suo apice, che è Cuore Punk. E i momenti orrorifici invece li metto proprio a paragone con quel suo capolavoro, quello sì, ripubblicato da Independent, che è Ossa Bagnate. Se vi volete bene e se amate il fantastico che in più ha il genio e l'intelletto, stelle bollenti non può mancare nella vostra libreria.